Tu non pensi abbastanza. Mi pare che manco te pensi troppo. È la prima volta che mi ripiace questo lavoro. È una domanda per Leonardo D'Agostini, al tuo primo lungometraggio, un film che parla di un campione di calcio, per un romanzo di formazione che è destinato anche a chi non ama il calcio. Era questo il tuo obiettivo primario? Sì, devo dire sì. L'idea è quella di fare un tipo di racconto di un cinema popolare, popolare nel senso buono e ampio. Un film che, ripeto questa frase da questa mattina, ma a cui crediamo molto, è di fare un tipo di film di cui noi saremo i primi spettatori, per questione di gusto, per questione di... Il campione è esattamente questo. Ci piaceva e mi piaceva molto l'idea di questi due personaggi. Uno, il calciatore è sempre, come dire, bigger than life. Cioè è uno che a vent'anni ha tutto, può fare tutto. E buttare nella vita di questo ragazzino, un po' viziato, un po' ribelle, a cercare di dargli un senso in una direzione, uno che invece sta proprio dall'altra parte, uno che della vita, insomma, in qualche modo, dalla vita non si aspetta più molto, e farli convivere in questo mondo che è bizzarro, che è quello della Serie A, del calcio, che è fatto di milioni, insomma, che conosciamo tutti bene. Una domanda per i produttori. Ci sono tanti film dedicati nel mondo, dello sport, soprattutto americani, viene in mente Ogni Maledetta Domenica. Per questo film avete avuto qualche riferimento in particolare e vi siete ispirati a qualcuno di questi film? Un po', in realtà... Sì, quelli che citi tu sono proprio film di sport. E questi sono, oddio, anche Ogni Maledetta Domenica parla dello sport di altissimo livello, quello che diventa una movimentazione di capitali enormi e un'industria multimiliardaria con all'apice dei ragazzi di 18 anni. Più o meno era questo che ci interessava raccontare. Poi, chiaramente, più che i film di sport, sono i film di mentoraggio che ci interessavano di più. quando lo concepivamo all'inizio, per passare, come diceva Leo, attraverso sfiorare alcuni cliché, ma non prenderli in pieno. Mentre Matteo Lover di nuovo scommette sui giovani, come Matti De Angelis, adesso con Carpenzano. Come lavorare questi giovani talenti? Diciamo che Carpenzano su questo film è stata un'intuizione di Leonardo, in primis che, avendolo provinato, avendo visto gli altri suoi film, che aveva fatto quegli altri due film prima, credeva moltissimo nel talento, nella capacità di empatia di questo ragazzo che veramente è così come poi... è un po' lo stesso personaggio che porta sullo schermo e questo scalda molto la storia. Diciamo che io cerco di costruire, insieme a Sidney, un cinema fatto sicuramente di opere prime, come sono state poi le nostre in passato, però fatto anche di storie innovative. Al di là dell'età di ognuno, abbiamo 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, al di là della nostra età, noi cerchiamo storie interessanti ed innovative. Spesso e volentieri queste storie arrivano da ragazzi esordienti all'opera prima, altre volte non è così. il tentativo è quello di evolvere un po' l'editorialità in Italia, che sennò rischia di essere un po' ripetitiva. In un momento di crisi, questa concatenazione fra crisi e povertà, un po' di poca varietà, secondo me, secondo noi, rischia molto di deprimere una cosa fondamentale per la nostra cultura, che è la sala cinematografica, che è il luogo dove poi ha senso fruire di questi film. Non bisogna però scoraggiarsi, e quindi bisogna credere, come fanno poi i protagonisti di questo film, bisogna credere nei propri sogni, cercare di essere ambiziosi, cercare di costruire un qualche cosa che rimanga a questo con i film. Insomma, quando sono, secondo me, così ben realizzati, ben curati, è un obiettivo che si può cercare di ottenere. Il protagonista di questo film è la squadra, la Roma. Che ruolo ha avuto, ha collaborato, cioè, per l'istante sono qua, la loro collaborazione, trova l'azienda con il film. Ha sposato il film dall'inizio, dalla sceneggiatura, e non è solo la Roma, in realtà la Roma è là, è ovviamente per motivi proprio di storia, noi siamo, è la società che ci ha aiutato di più, ma ci sono, noi non volevamo fare un film solo di una squadra, ma un film che parlasse poi della serie A, e loro hanno sposato appieno, hanno voluto leggere la sceneggiatura, hanno corretto pochissime cose, ed è anche, si è dimostrata anche un po' autoironica, perché noi è un mondo che prendiamo per quello che è, anche criticandolo un pochettino. La difficoltà però in realtà è stata prima, un po' concettuale sulle squadre di calcio, perché tu devi mostrare il calcio, che fai? Mostri le squadre vere con i calciatori veri, o squadre finte, tutto finto, insomma è stato più un lavoro come al solito, come si insegna il film, di pensiero, abbiamo prima pensato, poi abbiamo agito. E a proposito di finzione, cioè come avete lavorato per quanto riguarda proprio le partite, cioè come avviene questo processo? Mi sono chiesti le caspe per me. Beh, guarda, abbiamo, io ho sempre pensato, diciamo, in termini di, chiamiamola coreografia, perché insomma è ovvio che il calcio è difficile da raccontare, e allora mi sono posto sempre, adesso come lo affrontiamo, come da che punto, come lo, diciamo, mettiamo in scena. E quindi insomma, un po' alla volta abbiamo insieme a ragione, ci c'è stato molto, molto, molto d'aiuto, un'altra squadra, diciamo, la Roma ha dato il contenitore, il contenuto in particolare della sequenza principale, è il Pisa Calcio, che comunque è una squadra importante, una società importante di Serie C, che ci ha dato, che interpreta la Roma, che interpreta la Roma, e la Tandoia, nella scena, diciamo, principale, e anche in altri momenti, e devo dire, hanno fatto un grandissimo lavoro con noi, abbiamo lavorato alla costruzione di quelle coreografie, proprio come se fossero delle coreografie, era molto difficile, anche perché poi questi sono, calciatori professionisti, e quindi hanno, quindi dei programmi molto stretti, è pure difficile beccare il momento in cui, ecco, adesso ci mettiamo, facciamo questa cosa, te la spiego, andiamo, però sono stati eccezionali, insomma, poi le sequenze calcissiche, sono forse, fra le più complesse del film, dal punto di vista, proprio, diciamo, fattivo, tecnico, era insomma, tutto un lavoro digitale, però è stata anche, una dei più soddisfacenti, che si sono stati eccezionali, Grazie a tutti.